Ben tornati a tutti. Oggi è giovedì, 11 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Di nuovo in pista, per lavoro stavolta. Di nuovo in viaggio, la valigia, l'orario ferroviario, oppure il telepass in autostrada. Ci risiamo, ma non per vacanza stavolta, appena rientrati da un bel tour o dalla montagna riecovi un moto alla volta della filiale della vostra azienda o per trattare un affare deviso, la rete internet farà anche miracoli, ma tutto a distanza non si può, questione di vibrazione personale, a tu per tu, guardandosi negli occhi, è tutto un'altra cosa e la vostra sensibilità, potenziata dal trigono l'una giove lo sa. Crisi di coppia e sfaldamento delle certezze dei partner, imprevisti, incertezze e preoccupazioni attraversano fidanzati e coniugi. Coppie in crisi per intrusioni di estranei che termineranno litici e incomprensioni. I single incontreranno persone ostili e interessate, persone avverse e immature. Se la vostra situazione economica richiede un certo aiuto, non disprezzare l'idea di chiedere un prestito finanziario, solo che per prendere una decisione pondera bene tutte le possibilità e valuta varie proposte. In fondo non c'è fretta. Ciò che inizierte oggi vi porterà benefici, siate flessibili e tolleranti. Farete le cose giuste al momento giusto, si prevedono entrati di denaro impreviste. Cura le pubbliche relazioni. Socializza. Benissimo le nuove unioni, saranno favoriti in nuovi incontri per i nati di martedì venerdì e lunedì. In gran segreto c'è qualcuno vicino a voi che nutre per voi sentimenti speciali. Non sarebbe difficile accorgersene solo se non foste così impegnate a illudervi altrove. Buone prospettive per incontri interessanti per i nati di giovedì mattina e venerdì sera. Alcune situazioni lasciate in sospeso potrebbero risolversi improvvisamente e positivamente per voi. Mettete mana dei progetti importanti che avete chiuso in un cassetto, i tempi sono maturi per rendervi indipendenti dagli altri e mettere a segno qualche colpo importante e raccogliere qualche successo. Eventi piacevoli nel domestico. Invita amici o parenti stretti a cena. Benissimo i rapporti con bambini e le relazioni extra coniugali. Non lasciatevi prendere la mano da polemiche inutili con la persona che amate, rendetevi conto che siete, in fondo, persone alquanto complicate e quindi, spesso, non riuscite a farvi capire. Un po' di buon senso aiuterà il vostro amore a consolidarsi. Ogni giorno che passa il vostro partner potrebbe allontanarsi da voi, se siete nati tra le 3 e le 5 del mattino del lunedì datevi da fare per ricomporre una situazione che potrebbe degenerare presto. In generale amate i piaceri gastronomici, i pranzi sontuosi, fate attenzione, possono provocarvi risvolti non sempre apprezzabili sulla linea e la possibilità di mantenere una buona silhouette. E il profilo astrale mostra alti e bassi, tuttavia superabilissimi. Potreste ancora oggi risentire di qualche effetto disturbante di transiti celesti. Possibili momenti di fraintendimento in famiglia sono da mettere nel conto. Per fortuna, dalla vostra parte si schierano molte forze planetarie e non dovrete temere che la situazione possa raggiungere livelli critici. Giove, Saturno, Urano, Marte, Nettuno e Plutone per esempio che vi assistono in ogni decade e siate nati. Super giornata per voi questo giovedì sostenuto dall'ottimismo di Giove che da più di sei mesi ormai troneggia nel vostro segno, oggi in buona amicizia con Saturno in se stile, in pratica le due polarità di cui parla l'astrologia cinese, Giove è la massima espansione, Saturno la massima contrazione. Immaginate il respiro con i polmoni che si dilatano, si svuotano e si dilatano ancora. Sono loro due le stelle che reggono il ritmo dell'universo e infatti quando si incontrano, nel sessantesimo anno d'età, nel paese del dragone è festa grande. A completare il quadro la luna in capricorno, segno di terra buon amico del vostro, abbracciato al pianeta rosso, la stella dell'energia, dell'eros e della vitalità. Fatene buon uso. Amore ed eros. Più che d'amore oggi bisognerebbe parlare di sesso. Cosa che male non fa. Ottimismo e piacere il leitmotiv della giornata o per meglio dire della nottata. Pochi amici intorno a voi, ma se avete una dolce metà coenne cui condividere segreti e peccatucci. Starete benone anche da soli senza altre presenze tra i piedi. Tenete fermo il timone dell'autocontrollo e non fatevi dominare dall'emotività. È possibile che le vostre ansie possessive sulla persona amata aumentino. Se proprio non ce la fate, provate a instaurare un dialogo aperto e che metta in un angolo la vostra diffidenza preventiva. Fase di successi a ripetizione per i nati nel mese di aprile che cerchino vivaci e frizzanti avventure. Lavoro e denaro. Sereni e fortunati sul lavoro, specie se trattate con l'estero o se a sostegno della vostra attività viaggiate parecchio. Spostamenti veloci, in barba e disguidi dei giorni scorsi per voi fila liscio come l'olio, in ripresa anche gli studi con un'interrogazione in classe dall'esito favorevole, anche se la vostra coscienza ben sa di aver studiato molto poco. Ma quando la fortuna ci infila lo zampino le cose riescono bene comunque. Se svolgete una professione che ha a che fare con il pubblico, con il commercio e la vendita, uno splendido urano vi consente di operare oggi con la massima efficienza, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 maggio. Benessere. Allegri, vitali, sereni. Umore insolito per il mese di gennaio, lo stesso che vede spesso vede spuntare facce malinconiche al limite della depressione. La fine delle vacanze non piace a nessuno, ma voi, con la saggezza dono del sovrano olimpico, sapete prenderla bene. Del resto sta scritto anche nell'Ecclesiaste, c'è un tempo per ogni cosa, tutto ciò che nasce a un certo punto deve avere fine. Lo champagne è rimasto chiuso conservatelo per l'anno prossimo o per la prima occasione importante che incontrerete nel 2024. Il fegato vi farà un applauso. Per lei, lavoro per voi, scuola per i vostri ragazzi, ritmi di nuovo caotici in casa, addio relax e cenetta tra amici, ma che fare? La vita è questa. Per lui, tutto quanto avete visto e appreso in vacanza suscita la voglia di saperne di più e così anche dopo una giornata di lavoro la sera la trascorrete documentandovi sulla storia, la cultura, l'arte di luoghi appena visitati. Avete scoperto un mondo e già pensate al prossimo viaggio. Colore delle emozioni, porpora. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 8, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.